Lutto nel mondo del cinema. Lutto nel mondo del cinema. Se ne è andato a soli 59 anni a Monserrato, in provincia di Cagliari dopo una malattia improvvisa e fulminante che ha accolto tutti alla sprovvista. Salvatore Cantalupo è morto. L'attore napoletano, attivissimo in campo teatrale, era divenuto celebre soprattutto per avere recitato nel film Gomorra di Matteo Guerlone tratto dal best-seller di Roberto Saviano. Nel film Cantalupo interpretava Pasquale, il sarto che lavora, in nero, nell'alta moda e che viene sfruttato dalla camorra. A dare il triste annuncio della sua scomparsa è il collega Gianfranco Gallo, che ha condiviso una foto accompagnate da una dedica piena di affetto. Salvatore Cantalupo non c'è più. Non eravamo amici nel vero senso della parola, ci eravamo sfiorati nel lavoro. Nel film Fortapask ci stimammo molto ed ogni volta che per caso ci incontravamo era un festa, ci raccontavamo l'uno all'altro. Salvatore era un attore di quelli che mi piacciono, sul set lavorava sui personaggi per sottrazione, nessun orpello, solo l'essenziale, quello a cui tendo anche io sempre. E ancora. La vita degli attori è, anche la sua, fatta di cose belle, ma anche di tante delusioni, e di rara giustizia. Era un compagno in tutti i sensi, su FB diceva la sua compassione, si esponeva, non si sottraeva mai, lo stimavo anche per questo. Un amico comune, Ciro Delrico mi ha raccontato, che è successo in Sardegna mentre Salvatore teneva un laboratorio, a luglio si era ammalato. E' entrato in coma il giorno in cui si doveva andare in cena, si è risvegliato e gli hanno detto di aver preso 10 minuti di applausi, ha risposto che poteva morire felice e se n'è andato, lontano da Napoli, in silenzio, senza fare ammulina. Per sottrazione. Punto un dolore atroce, quello di Gallo, per la perdita dell'amico e collega. Una morte improvvisa, di quelle che lasciano senza parole quelli che restano? Aveva esordito al cinema nel 1998 con Teatro di guerra di Mario Martone. Ha lavorato con i più grandi, per esempio con Tony Servillo con cui, dal 2005, mette in scena molti spettacoli come Le false confidenze, di Pierre Carlet de Camblain de Marie Vaux, e il lavoro rende liberi. Arriva al successo, anche internazionale, grazie al film record di incassi italiani Gomorra, 2008, di Matteo Garrone. Punto dello stesso anno, sono le sue partecipazioni a Fortapasch, di Marco Risi, e Lo spazio bianco, di Francesca Comencini. Inoltre, recita nel primo film della regista Alice Rorvacher. Corpo Celeste, 2011. Ma ora è tutto finito. Cantalupo se ne è andato ma resterà per sempre impresso nei cuori di coloro che lo hanno amato. Il tuo talento, e la tua gentilezza mi hanno sempre intimidita, ti saluto ma soprattutto ti ringrazio per ciò che hai dato al mondo del cinema e del teatro. . 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